Pianista nel gruppo di Battiato negli anni 70, produttore discografico di grandi nomi. Da oltre 40 anni il maestro milanese insegue il senso profondo che si cela nel suono. Roberto Cacciapaglia è arrivato sul palco del Teatro Ristori per l'evento promosso dall'Ordine degli Ingegneri. Lui che compone armonie condite di nuovi approdi tecnologici ha chiuso la terza edizione del format Talks Sliding Doors dedicato appunto agli innovatori. Grazie all'utilizzo di un software vicino al pianoforte ha dato nuova vita agli armonici, ovvero quelle vibrazioni non sempre percepibili dall'orecchio umano che sono però alla radice del suono. Sue non a caso le suggestioni che hanno accompagnato lo spettacolo dell'Albero della Vita a Expo 2015. La musica è un'arte primordiale, è quell'arte che nel mito di Orfeo per esempio incantava i delfini e faceva danzare gli alberi. E quindi dobbiamo riscoprire un ruolo della musica di questo tipo. Oggi la usiamo più come intrattenimento che va benissimo però la musica ha dei poteri straordinari che possono aiutare l'uomo sia a livello individuale che anche a livello sociale. Lei è stato definito anche uno scienziato delle note, come può la musica e quando la musica può dirsi davvero innovativa? Innovativo credo che possa nelle varie epoche voler dire essere utile, essere utile a riscoprire le parti belle, le parti importanti. Come noi per esempio viviamo in un luogo meraviglioso che è l'Italia, Verona è uno degli esempi. Ecco, un'arte innovativa è quella che mette proprio l'accento su questo. E come si ascolta bene? Come si ascolta bene? Con le orecchie e col cuore. Con le orecchie è altiche. E cominciamo. Grazie a tutti.